bene il video promo della terza puntata quindi non c'è guerriero non c'è guerriero ma allora sono solo ma che bello allora se non c'è guerriero faremo il mio programma finalmente in anteprima il programma di emiliano e parleremo di di zucchine di melanzane di pomodori parleremo di di aratro di zappa di tutto quello che serve per lavorare la terra e questo programma si era facciamo un trattore il nuovissimo programma di emiliano su radio r9 ore 23 da lunedì 16 vi aspetto ciao ora cominciamo facciamo sto pro come non c'è milano non c'è emiliano non c'è emiliano fantastico allora ragazzi da lunedì 16 febbraio alle ore 23 su radio r9 facciamo il mio programma il programma di guerriero un programma che parla di cucina l'ho sempre sognato il programma che parla di cucina il programma radiofonico definitivo sua cucina facciamo il brodetto lunedì 16 febbraio ore 23 solo su radio r9 facciamo il brodetto ciao vabbè era uno scherzo scherzo di carriamale è uno scherzo lunedì ore 23 qui su radio r9 il programma facciamo l'amore facciamo l'amore un programma che parla di cucina di sesso ciao